Al termine della presentazione della carovana migranti, il 19 novembre a Torino, in Consiglio regionale, la signora Monira Chagraoui ha rivolto un appello per ritrovare suo figlio, Amin Benassin, arrivata a Lampedusa nel 2010 e poi scomparso. La stessa sorta è toccata da altri 500 ragazzi tunisini, che da quattro anni non danno più notizia alle loro famiglie in Tunisia. Mi chiamo Monira Chagraoui e sono la mamma di Amin Benassin e vengo dalla Tunisia. Sono qui per cercare mio figlio, come potete vedere dalla foto. Sono in rappresentanza di 501 madri che sono alla ricerca anche loro dei loro figli. Se avete qualsiasi informazione dei nostri figli potete contattare la carovana migranti e potete vedere il nostro dossier. Chi fosse in grado di fornire informazioni può rivolgersi alla carovana migranti al numero 320 940 5530.